Niente, loro giustamente hanno fatto una grandissima partita, non si può dire niente nei primi 25 minuti perché hanno fatto canestro da tre, stai bravissimi. Noi però dobbiamo avere più palle, sinceramente gli ho detto ai miei ragazzi, avevo messo la partita che dovevamo giocarla con la testa eccetera eccetera, però queste partite ci vogliono le palle, io naturalmente è anche responsabilità mia, nel senso che non è che sono solo i giocatori che stanno in campo, ci sono pure io, anche io preparo la partita, però queste partite ci vogliono anche gli attributi per giocarle. Abbiamo dimostrato per 16 partite di averli, abbiamo dimostrato agli ultimi 15 minuti di averli, il problema è che bisogna mostrarle per 40 minuti.